Terremoto questa mattina alle 7.07, un terremoto da magnitudo 5.7, questo è quanto è stato rilevato. Lei come l'ha vissuto? Ah niente, è arrivata questa scossa molto forte, più che altro non finiva mai, quindi mi stavo preparando, mi sono vestito veloce, poi è arrivata la seconda scossa e dopo sono sceso. Ha il timore che magari nelle prossime ore, nei prossimi giorni possa ricapitare? Ma decisamente sì, quindi non sono un esperto, la scossa è stata forte, però in questi casi ci si aspetta sempre magari che è qualcos'altro, quindi della prudenza c'è, quindi si sta fuori da stamattina. Si può dire che è andata bene? Decisamente, anche perché non ci sono danni in giro, quindi questa è una grossa fortuna, ho letto appunto che l'epicentro in mare è stata una grandissima fortuna. È stata traumatica, ma caduti dei quadri, caduti degli oggetti, un gran casino, anche delle crepe diciamo sull'ortabile, e quindi vediamo un po' un attimo adesso cosa è possibile fare, far fare delle verifiche, vediamo un po'. Poi ho dovuto correre dalla mia nipotina perché lei addirittura abita su una mansarda in alto, quindi era da sola, perché la madre che lavora al blocco operatorio San Salvatore, quindi diciamo che era da sola, quindi c'era anche quella paura lì. Io per lì stavo dormendo, quindi ho trovato qualcosa di strano, poi subito realizzato, ho detto abbia c'è il terremoto, spero che anche finisca presto. Si tremava, si sentiva tutti i cristalli che tremavano, però insomma ho la casa antisismica, non c'è problema per me. Queste cose, queste situazioni sono più soventi, in tutte le regioni d'Italia, non è solamente qua a Pesaro, perché il giorno d'oggi il clima e tutto, vuol dire che stiamo pagando l'effetto, non è che in questo, facciamo quello l'altro, tu puoi fare tutte le previsioni del mondo, chi comanda nel mondo è uno e il signore. La sua abitazione ha subito dei danni? No, per mio frano abitò più in terreno, per cui mi è andato tutto bene come è andato, da mia cognata a Pariche, ha rotto i vasi, ceramica, qualche crepa l'ha fatta, lei abita in terzo piano. Eravamo qui che mettevamo a posto il banco, a un certo punto mi sono sentita girare tutto, poi ho guardato il mio collega di lavoro e mi hanno allargato gli occhi e mi ha detto il terremoto, ma è stato forte, qui tremava tutto, il rumore, non è stata una bella esperienza. Ancora sento il singhiozzo. C'è stato qualche danno? Qui no, qui no. Paura tanta, c'erano già qualche cliente? No, qui ancora no, perché era presto, insomma, c'erano noi che mettevamo a posto. La speranza è che sia finita. Speriamo, speriamo, il mare ci ha salvato sto giro.